Il 9 maggio celebriamo una ricorrenza molto importante per l'Europa e per l'Italia, la nascita dell'Unione Europea. Quest'anno in particolare abbiamo ricordato i suoi 70 anni, infatti il 9 maggio del 1950, in seguito alla famosa dichiarazione di Robert Schumann, l'allora ministro degli esteri francese, nascerà la CECA, cioè Comunità Europea del Carbone e dell'acciaio. Celebre la sua frase, la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali e pericoli che la minacciano, e ben lo sapeva l'Europa appena uscita dal secondo conflitto mondiale. Quello che voglio ricordare nell'ambito di questa importante celebrazione è che l'idea di un'Unione Europea era già stata espressa attraverso un manifesto, il famosissimo Manifesto di Ventotene scritto nel 1941 da un gruppo di antifascisti e antifasciste appunto confinati nell'isola di Ventotene nel Martirreno. I nomi che solitamente vengono ricordati sono quelli di Artiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, meno spesso quelli delle donne che pure hanno partecipato sia alla redazione del manifesto sia alla diffusione delle idee del manifesto a Roma e a Milano. E penso ad Adarossi e poi a Ursula Hirschmann. E ora vi parlo di lei. Ursula Hirschmann nasce a Berlino nel 1913 da una giata famiglia ebraica. Agli studi di economia segui subito una passione politica molto forte, tant'è vero che Ursula farà parte del partito socialdemocratico di Germania ed è per questo che poi sarà costretta a fuggire in Francia. Proprio qui conoscerà quello che sarebbe diventato il suo futuro marito e cioè Eugenio Colorni. Succede però che Eugenio viene confinato nell'isola di Ventotene e lei lo seguirà. Lì inizieranno a redigere il manifesto nel mentre il matrimonio subirà un periodo di crisi. Difatti comunque avendo meno restrizioni degli altri confinati sull'isola di Ventotene, lei avrà la possibilità di diffondere, quindi di uscire dall'isola e diffondere tutte le idee del manifesto. Nel 1943 per esempio a Milano fu protagonista e partecipò attivamente al movimento federalista europeo. Poi finita la guerra, morto anche Eugenio Colorni, si sposò con Altiero Spinelli, nome appunto importante per il manifesto di Ventotene, e continuò la sua attività politica. Da quel 1941 in cui partecipò alla redazione del manifesto, passando attraverso il movimento federalista europeo, nel 1975 fonderà l'Associazione delle Donne per l'Europa e fino al 1991, nonostante i gravi problemi di salute, ha sempre seguito questo progetto. Quindi Ursula, che non si sentiva né pienamente tedesca né pienamente italiana, è stata una donna fondamentale per il movimento europeista e soprattutto per la presenza delle donne in politica, perché appunto lei riteneva che era necessaria una maggiore partecipazione delle donne proprio nella costruzione del progetto europeo. Affermava infatti, la battaglia per l'unificazione politica dell'Europa può essere una tappa importante ed esemplare per le donne. Mi piace quindi concludere con una frase sua, che è questa. Noi possiamo soltanto amare, non per bontà, non per senso religioso, ma perché è l'unico nostro modo di restare nella realtà.